Di nuovo buonasera a tutti, una bella sessione in pubblico, siamo 4KOH addirittura, oh esagerati, sono esagerati sti ragazzi. Adesso ci facciamo questa bella sessione pubblica, in that match, Magic Raven, Jurasim, Charik. Ok, now we are in public, good luck, have fun. L'obiettivo è individuare le prede e uccidere. Attualmente qui le cose cambiano. Contratto perso. Oh yes, I did it, be careful, be careful Rick, be careful the group of civilian. Oh, little joke. Eh eh, sorry Rick, he's a 4Defense. I see you. Oh no, no Jurek, ok, ok, nice. But, eh, we take a mortal grab in this position. Oh yes, Meri. Ah no, ah! Ah, ok, 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 sorry. Sorry. Oof. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Sì, sì, sì. 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 Oh, Rick. Wow. But waiting a minute. Ah, yeah. Ah. Be careful. Oh, yeah. 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 внимание. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.